Grazie a tutti. Che cosa rappresenta per lei la parola mistero? Probabilmente, come direbbe una famosa pubblicità, è il sale della vita. Sostanzialmente noi viviamo in un mondo che sembra molto piatto per certi versi. In realtà è molto possibile, molto probabile che ci sia una patina che non vuole farci vedere la vera realtà. Quindi mistero io l'associerei alla parola realtà. Il 2012 è il centenario della scoperta, o meglio della riscoperta, del manoscritto Voynich. Una ricerca che dunque dura da un secolo. A che cosa ha portato finora? Ha portato innanzitutto a eliminare alcune tesi e a andare su alcuni campi molto decisamente. Sappiamo che è stato prodotto tra il 1404 e il 1438. Sappiamo che oltre il 1460 non può essere stato prodotto. Quindi in questi cento anni abbiamo capito che si tratta di un manoscritto di un'epoca ben definita. E da qui dobbiamo ricominciare le ricerche. Grazie a tutti.